Il sindaco pare che la settimana prossima verrà Salvini per il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, parteciperà anche lei? Non lo so, non ho notizia ufficiale, quindi se viene per il comitato vediamo. E se dovesse venire lei come lo accoglierà? Se lo accoglierà? Sono tutte domande ipotetiche, io non ho notizia ufficiale della visita di Salvini, quindi quando ci sarà una comunicazione ufficiale si capirà se è una visita con il sindaco, una visita del ministro a titolo politico, una visita ufficiale, un comitato nazionale, un comitato provinciale, non saprei che commentare. Lui è il ministro all'interno, io faccio il sindaco di Napoli, evidente che se è un incontro istituzionale ci sarà pure il sindaco di Napoli, è assolutamente pacifico. Noi abbiamo sempre garantito a tutti i governi la massima cooperazione istituzionale. Ovviamente riteniamo che sia utile fare un incontro che non sia una passerella, ma che sia un incontro, come siamo abituati a fare, concreto, operativo e fattivo. Se questo è lo spirito istituzionale daremo il massimo contributo al ministero dell'interno. Il sindaco di Passerelle, Salvini nell'annunciare il suo arrivo a Napoli ha detto che porterà ordine e pulizia in alcuni quartieri. Secondo lei è essenziale un annuncio del genere o la presenza fisica del ministro a Napoli? Se il ministro ci aiuta a sbloccare un po' di fondi, noi potremmo avere più spazzatrici nella nostra città per pulirle ancora meglio. Quindi se lui è un fornitore di spazzatrici che vuole pulire Napoli e darci una mano, c'è uno strumento molto agevole. Lui è il ministro non solo dell'interno inteso come sicurezza, ma anche della finanza locale e dell'autonomia. Quindi cominciasse a sbloccare un po' quelle gabbie che ci impediscono di acquistare mezzi per avere la città più pulita o per avere più poliziotti municipali o per poter garantire i servizi e non avere il blocco della spesa come lo Stato ci costringe ad avere. Se intende pulizia etnica, che è un tema che a lui forse è più caro, questa è una città che la pensa in un altro modo. Se viene per portare più poliziotti, carabinieri e finanzieri e riesce a vincere questa sfida, a differenza dei governi precedenti, poi gli stringerò la mano e gli farò i complimenti. Finora non abbiamo visto nulla sulla sicurezza da parte di questo governo. Quindi se è un incontro concreto, fattivo, collaborativo, istituzionale, rispettoso della città, di chi la rappresenta e di quello che questa città ha fatto in questi anni, col dovuto rispetto che noi dobbiamo e vogliamo dare sempre alle istituzioni centrali, sarà un incontro importante. Quindi questo credo che sia il modo migliore, perché non è che qui stiamo all'anno zero oppure stiamo in una città fuori controllo. Nonostante i governi centrali e regionali, Napoli è una delle città che più cresce a livello nazionale e mondiale. Vediamo se sarà veramente un governo del cambiamento, questo mi sento di dire al Ministro dell'Interno. Vediamo in questa manovra finanziaria e legge di bilancio che cosa fanno per le autonomie, per gli enti locali e per la sicurezza veramente. Se finisce la stagione della propaganda e comincia quella della concretezza, troverà nel Sindaco di Napoli, pur nelle più oceaniche differenze politiche, un interlocutore serio, credibile e affidabile.